Don Francesco Spagnesi, il prete arrestato martedì scorso a Prato per traffico internazionale di droga e appropriazione in debita, è indagato anche per tentate lesioni gravissime. Lo riferisce la Procura, che ha formulato l'ipotesi di reato in relazione alla sua sieropositività. Del virus sessualmente trasmissibile, il prete non avrebbe fatto menzione con alcuni dei partner sessuali dei festini, che organizzava assieme al suo compagno Alessio Regina. Proprio quest'ultimo ha visto perquisire dalla squadra mobile la sua casa, dove Don Spagnesi abitava e dove si svolgevano i festini. Regina ha già eseguito il test dell'HIV. Qualora risultasse positivo, sarebbe la vittima del reato contestato al prete. Ai festini, secondo quanto riferito nell'interrogatorio di garanzia da Don Spagnesi, avrebbero partecipato regolarmente 20 o 30 persone. Due di queste, sempre secondo gli investigatori, hanno già dichiarato di essere sieropositive. Anche la pericolosità sociale dell'eventuale comportamento dell'ex parroco della Castellina, dunque, ha spinto la Procura a indagare il prete per questo reato, per il quale, eventualmente, il codice penale prevede una pena da 6 a 12 anni.